buongiorno amici ecco una nuova proposta per riciclare dei tappi delle confetture allora oggi abbiamo bisogno dei bastoncini di legno un po grossi possiamo usare anche degli avanzi di matita o delle cannucce di plastica un po resistenti del filo di cotone sottile ma resistente e poi degli trezzi per tagliare la colla a caldo il martello con dei chiodi per bucare ricordatevi sempre di tenere un tagliere a portata di mano per non rovinare il tavolo andiamo a vedere come realizzare il nostro oggetto vediamo ora il procedimento allora scegliamo due tappi della stessa della stessa dimensione della stessa grandezza in questo gioco vanno bene i tappi anche grandi allora segniamo il centro vi consiglio di usare questi che hanno la capsula che è più facile trovare il centro e con un chiodo andiamo a andiamo a fare un foro nel centro importante importante in questo gioco fare un buco proprio nel centro del del nostro tappo perché altrimenti poi il nostro gioco non funziona allora possiamo usare anche un attrezzo un po con la punta un svasata in questo modo e delicatamente cercate di di allargare delicatamente il buco non troppo è ogni tanto verificate il vostro il vostro bastoncino che volete utilizzare se ci passa per non allargarlo troppo si allargatelo fino a che allargate il foro fino alla larghezza dell'oggetto ecco se avete qualche pezzettino di matita qualche residuo di matita possiamo riciclare anche questa e quindi potremmo usare per fare il perno che servirà qui dentro è quindi andiamo ad allargare ancora piano piano gradualmente è in modo da da inserire questa così piano piano si allarga facilmente però state attenti perché ci sono delle bave che potrebbero allargare piano fino a che riuscite a inserire il vostro bastoncino che avete scelto vi consiglio di usare un bastoncino un po più grosso che risulta poi più semplice il funzionamento del nostro del nostro oggetto ok allora questo qua è il primo benissimo così andiamo a preparare anche il secondo sempre nel centro questo lo avevo già presegnato facciamo un forellino e poi andiamo ad allargare il foro sempre con un chiodo oppure con un punteruolo in questo caso lo sto facendo con le forbici perché tanto come dicevo è molto tenero questo lamierino ecco verificate verificate sempre pian pianino e man mano che allargate la larghezza perché deve essere dentro preciso non deve anzi se esce si riesce a passare un po un po forzato è meglio ok come per per l'altro come per l'altro per l'altro oggetto che abbiamo fatto allora andiamo inserire questo qua dentro così un po forzato ok e andiamo a mettere un pochino di colla adesso per fissarlo lasciamo un po sporgere in questo modo e adesso andiamo a mettere un po di colla che abbiamo già fatto riscaldare per fissarlo così nel centro mettiamo un po un giro di colla qua in mezzo così poi andiamo a infilare l'altra parte li infiliamo con la parte cava all'interno lasciamo due esterni così perfetto allora mettiamo un po di colla anche questo lo mettiamo qua sul bordo questa operazione dobbiamo essere un po lì un po rapidi perché prima che asciughi la colla dobbiamo andare inserire il nostro pezzettino così perfetto ecco andate ad inserirlo e cercate di non avvicinarli troppo lasciate una fessura di qualche millimetro è qua in mezzo due o tre millimetri sono sufficienti l'importante che sia abbastanza distante perché ci servirà per far passare il nostro filo lì in mezzo ok allora così una volta che l'abbiamo fissato facciamo ancora un po di mettiamo ancora un po di colla intorno da questa parte che ci serve per fissare meglio il nostro legnetto che fa da perno e anche per proteggerci dalle bave che sono un po taglienti da questa parte ok benissimo adesso aspettiamo qualche istante senza toccare niente perché è molto calda questa colla è un attimo di pazienza ecco abbiamo aspettato qualche istante per far asciugare la colla perché questa è molto calda adesso così la possiamo maneggiare senza pericolo adesso andiamo a tagliare la parte in eccesso questa parte che sporge non ci serve e ci sbilancia anche un po l'oggetto beh se l'avete fatta lungo uguale da una parte dall'altra potete anche lasciarla se volete però in questo caso io ne ho lasciata un po di più da una parte perché devo pareggiare il peso in modo che sia ben bilanciata allora prendete sempre il vostro tagliere e andate a a tagliare la parte che sporge così è cercate di tagliare in modo che ci sia una misura uguale da una parte e dall'altra andate a tagliare con il vostro taglierino o con quello che avete a disposizione ok così ok benissimo e adesso andiamo a prendere un pezzetto di filo quel filo che dicevamo prima va bene un filo di cotone importante che sia sottile e che sia abbastanza resistente prendiamo un po di questo filo 40 50 centimetri sono più che sufficienti poi valutate voi tagliamo un pezzettino così bene adesso che abbiamo il nostro pezzettino di filo andiamo a preparare una legatura per fissare il nostro oggetto allora vi consiglio sposto un po così sul fondo scuro e più si vede meglio il filo bianco ok allora fate un occhiello così bene e poi questo filo legate semplicemente questa parte allora fate un nodo a questo punto occhiello va dentro il codino e poi tirate così tirate bene poi di nuovo facciamo un secondo nodo occhiello il codino si infila dentro e poi tirate di nuovo così ok in questo modo abbiamo fatto un nodo scorsoio vedete che scorre se io tiro si stringe allora tagliamo questa parte in eccesso così andiamo a prendere il nostro oggetto che abbiamo costruito infiliamo dentro nel mezzo questa parte così e andiamo a tirare in questo modo il nostro filo si andrà a fissare proprio nel centro e tirate finché non arriva fino in fondo e si blocca in fondo così bene bello stretto ok in questo modo anche se tirate si stringe bene sul centro e adesso andate a rotolare 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 tutto il filo e abbiamo preparato il nostro io io vediamo un po se funziona 1 2 3 guarda bisogna allenarsi un pochino è come andare in bicicletta non si riesce subito la prima al primo colpo bisogna un po allenarsi e su e giù benissimo guarda che roba bene ragazzi buon divertimento ciao alla prossima